Le risorse europee del Recovery Fund possono essere spese anche per la ricostruzione post-sisma. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro istituzionale con i rappresentanti degli enti locali che si è tenuto all'Università di Teramo al termine della giornata conclusiva del Forum del Gran Sasso. Conte ha sottolineato l'importanza della ricostruzione per non far fuggire i giovani dai territori del centro Italia. Sicuramente il Recovery Fund, il progetto di ricostruzione e alcune specifiche articolazioni di questo progetto di ricostruzione possono entrare anche nel Recovery Fund. Ne abbiamo parlato anche con il Sindaco di Teramo, ne abbiamo parlato con il Commissario Lignini. Il 23 ottobre, è già fissata la data, incontrerò tutti i sindaci del sisma del 2009. Sapete che ho già incontrato, poco fa, qualche settimana fa, a Chigi tutti i sindaci del sisma del 2016. Continuiamo a lavorare. Come ho sempre detto, la ricostruzione è un percorso lungo, è un percorso però... Adesso abbiamo trovato la strada, abbiamo introdotto varie norme che sbloccano la burocrazia, favoriscono la ricostruzione privata, anche pubblica. Ancora stiamo lavorando costantemente, questa notte abbiamo lavorato ancora alcuni emendamenti con la piena collaborazione dalle forze parlamentari. Siamo tutti orientati, dobbiamo assolutamente consentire a queste comunità di poter ripartire. Alcune di queste, peraltro, devono contrastare anche il rischio della dispersione. Questo vale soprattutto per i centri interni. Quindi la ricostruzione deve essere quanto più rapida possibile. Per rilanciare efficacemente sul piano sociale, sul piano economico questi territori. Per dare un futuro ai giovani che sono qui. altrimenti chiaramente andranno tutti via. E poi ricostruire benissimo, fare delle cose bellissime, ma fra vent'anni non serve nulla a nessuno. Lo dobbiamo fare nei prossimi anni.